Ben trovati al nostro approfondimento, buonasera Carlo Fidanza, capo delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo. Buonasera, ben trovati, grazie per l'invito. Grazie, onorevole di essere con noi. Allora, in realtà capo delegazione ancora per poco, perché per poco c'è questa legislatura europea, ne comincerà a breve un'altra. Le elezioni sono l'8 e il 9 di giugno, si vota per il nuovo Parlamento Europeo e Carlo Fidanza è nuovamente candidato. Questa avventura europea, vista con gli occhi del partito di Giorgia Meloni, com'è andata e quali sono, per sommi capi, le vostre ambizioni per il prossimo futuro? Diciamo che usciamo da cinque anni piuttosto pesanti, nei quali non soltanto abbiamo avuto gli shock esterni, chiaramente mi riferisco alla pandemia e poi alla guerra in Ucraina, oggi alla guerra in Medio Oriente, ma abbiamo avuto, nonostante per paradosso gli shock esterni, una impostazione di Bruxelles con una maggioranza del Parlamento Europeo che pendeva verso sinistra, molto ideologica, soprattutto sui temi che hanno riguardato la cosiddetta transizione ecologica, la transizione green. Noi abbiamo avuto un'Europa eccessivamente invasiva che ha avuto una produzione di decine e decine di normative che non hanno assolutamente tenuto in considerazione la necessità che la sostenibilità sia anche economica e sociale e non soltanto ambientale, lo abbiamo visto nel settore dei trasporti, siamo in Liguria e potremmo parlare anche delle norme per quanto riguarda la transizione per il trasporto marittimo, l'abbiamo visto nel comparto dell'agricoltura, l'abbiamo visto con la direttiva sulle case green, potrei fare tantissimi altri esempi di una visione sbilanciata delle politiche ambientali che hanno messo in secondo piano tutto quello che è la produzione, la nostra industria, la nostra manifattura, la nostra agricoltura, il nostro settore dei trasporti e della mobilità e questa è la prima cosa da cambiare. Poi abbiamo bisogno di un'Europa che parli un po' di più la lingua dell'Italia, per esempio su temi come l'immigrazione, abbiamo visto in questo anno e mezzo, soprattutto negli ultimi mesi, come la linea del governo Meloni stia finalmente cominciando non solo a far breccia in Europa ma anche a portare dei risultati importanti in termini di riduzione dei flussi irregolari dall'Africa bisogna andare con maggiore forza e determinazione in questa direzione. Questa è la vostra direzione anche se diciamo che Giorgia Meloni è considerata anche in modo forse inatteso, è stata capace in qualche modo di dialogare con l'attuale Europa, un'Europa che non sembrava esserle molto vicine, in realtà poi anche con Ursula von der Leyen si è aperto un dialogo, un canale di dialogo. Questo però non significa che la vostra idea per la prossima Commissione europea sia quella di cambiare strada? Noi vogliamo intanto riprodurre in Europa il modello Meloni, il modello di un centrodestra di governo unito, mandare all'opposizione le sinistre, gialle, rosse e verdi, esattamente come abbiamo fatto in Italia il 25 settembre del 2022. Quindi un progetto chiaramente di alternativa alla sinistra che ha fatto molti danni anche a livello europeo come sugli argomenti che citavo poc'anzi. Giorgia Meloni devo dire che ha stupito soltanto chi non la conosceva e chi si è reso protagonista soprattutto fuori dall'Italia di questa narrazione per cui saremmo stati isolati a livello internazionale, saremmo usciti dall'euro, dall'Unione Europea, dalla Nato e chissà da quale altro consesso internazionale in realtà oggi è sotto gli occhi di tutti che proprio sulla politica europea e la politica internazionale questo governo ha conseguito dei risultati importantissimi e ha finalmente cominciato a far pesare di più gli interessi dell'Italia, esattamente come fanno gli altri paesi. Non bisogna essere ingenui quando ci si siede ai tavoli europei, bisogna essere orgogliosi di quello che noi rappresentiamo, la terza economia d'Europa, la seconda manifattura d'Europa, un paese che ha record primati straordinari in tanti campi. Dobbiamo tornare a essere orgogliosi come sta facendo il governo Meloni. Noi crediamo che ci sia modo di far sì che l'Italia, guidata da Giorgio Meloni, possa cambiare l'Europa. Per far questo serve anche una pattuglia rafforzata e aumentata fortemente nei numeri di Parlamento europeo e di Fratelli d'Italia. Parliamo un po' del nostro territorio. Carlo Fidanza potrebbe essere ormai un uomo d'Europa, perché con l'esperienza a Bruxelles e Strasburgo, ma è un uomo d'Italia, nel senso che è nato nelle Marche, è vissuto a Milano, è lavorato anche in Liguria, lo ricordiamo qui all'agenzia in Liguria. Lo consideriamo quindi in una qualche misura anche Ligure e noi Liguri lo sappiamo, abbiamo questa consapevolezza di contare numericamente poco in quello che è un grande collegio del Nord-Ovest che comprende quattro regioni, tra cui Piemonte e Lombardia, che sono molto più grandi di noi. Quindi le chiedo quale sarà il suo impegno diretto per gli interessi della Liguria. Io devo dire che questo ruolo l'ho sempre un po' assolto, perché quando decidemmo con Giorgia Meloni di costituire Fratelli d'Italia, ormai un po' più di dieci anni fa, fui il dirigente incaricato di venire in Liguria a mettere insieme un po' la prima pattuglia che diede vita al nostro partito. Ero parlamentare europeo anche all'epoca, non c'erano rappresentanti Liguri del nostro partito e quindi era anche naturalmente questo territorio una parte importantissima della nostra circoscrizione elettorale a cui ho sempre dedicato molta attenzione, come ho fatto anche in questo mandato, come ho fatto anche da parlamentare nazionale, perché nella legislatura precedente, prima di eleggere importanti parlamentari Liguri di Fratelli d'Italia, noi non avevamo parlamentari Liguri e quindi un po' per le esperienze, anche per quelle professionali che avevo maturato, ad esempio io sono stato il relatore per Fratelli d'Italia quando ero alla Camera del Decreto Genova, che ricordo fu quello che consentì anche la rapida ricostruzione poi del Ponte Morandi e di insomma predisporre i ristori, tutta quella stagione a me tristissima che abbiamo vissuto. Quindi è una regione, un territorio a cui sono profondamente legato, ci torno sempre molto volentieri, ci torno molto spesso perché insomma ho imparato ad apprezzarne i pregi e i difetti, è una terra che se uno si appassiona poi la ama, perché anche spesso la rudezza delle persone però nasconde anche grande generosità, è qualcosa che davvero arricchisce anche umanamente diciamo. Peraltro è un momento complicato per la nostra terra, non le rubo troppo tempo dell'intervista che poi rientra nei canoni della Parcondicio, quindi la faccio sfruttare anche per parlare di sé e dei suoi progetti, però sicuramente ci sarà bisogno di qualcuno che anche dall'esterno dia una mano alla Liguria a non impantanarsi perché con la condizione attuale della giunta Toti che è bloccata da vicende giudiziarie c'è il rischio che tutto quello che si stava facendo in Liguria in termini soprattutto di grandi opere infrastrutturali che riguardano anche i corridoi europei si possano bloccare, quindi io credo che da parte mia debba esserci la richiesta, si impegnerà al Parlamento europeo per aiutarci a evitare questa imparsa? Questa è la priorità assoluta, parlavamo prima di impegni e certamente completare tutto l'assetto infrastrutturale di questo territorio che appunto in parte rientra anche nei corridoi europei è una priorità assoluta e io mi auguro che questa situazione di impasse, di blocco che c'è a livello regionale si possa naturalmente sbloccare che non ne vengano sacrificati o andati a toccare in maniera negativa i progetti che devono essere completati peraltro in questi anni la Liguria è ripartita, c'è stata finalmente una forte volontà politica, una forte visione che è andata in questa direzione, realizzare le opere che servono al territorio, superare la logica del no a tutto che ha tenuto bloccato, imbalsamato un territorio dalle grandissime potenzialità, quindi assolutamente sì questa è una priorità come aggiungo è una priorità difendere la pesca, l'agricoltura e le attività tradizionali di questa regione e fare in modo che il turismo e la mobilità trasportistica anche in campo marittimo continuino ad essere un vettore importante di sviluppo di questa regione, devo dire che su questo si è fatto molto e serve andare ancora avanti nella stessa direzione perché penso che questo possa essere davvero un'eccellenza Ligure riconosciuta da tutti poi che deve essere ancora di più valorizzata Anche perché insomma poi in linea generale la Liguria è una regione importante per quanto piccola è il porto d'Italia, ha bisogno di connessioni, di infrastrutture che insomma erano tutte in procinto di essere realizzate o pianificate, ce la diga ci sono i grandi progetti, sarebbe veramente un peccato se tutto si bloccasse Assolutamente, io però sono ottimista di natura quindi penso che questa fase verrà superata mi auguro poi che si faccia chiarezza che anche il Presidente Totti possa tornare pienamente operativo che venga garantita naturalmente la continuità amministrativa dell'ente regione Liguria che ha ben lavorato in questi anni e che quindi si possono portare a termine tutti quelli che sono i progetti inaugurati in questa stagione di buon governo, qualsiasi cosa poi succederà a livello giudiziario certamente sul piano politico è stata una stagione di svolta per la Liguria e io questo non lo voglio né dimenticare né mettere in secondo piano perché invece credo che sia da rivendicare con orgoglio Lei è membro del partito del Parlamento Europeo dal 2019, cioè dalle ultime elezioni Ben prima in realtà perché la prima volta sono stato eletto nel 2009 da ragazzo, avevo 32 anni ho fatto già una legislatura all'epoca con il PDL e poi facemmo Fratelli d'Italia alla fine di quella legislatura quindi sono alla fine del mio decimo anno di Parlamento Europeo di due mandati quindi seppur con un buco in mezzo Esatto perché c'è stata la Camera, no? Sì perché nel 2014 sembra lontanissimo ma noi non raggiungemmo come Fratelli d'Italia il quorum del 4% Sembra incredibile a dirlo oggi, dieci anni dopo Giorgio Meloni presidente del Consiglio devo dire anche per merito di quelli che con me anche su questo territorio non hanno mai mollato Infatti ho una domanda su questo che la voglio fare, lei deve sapere che io ho una mia carissima amica che ha partecipato a tutta la storia di Fratelli d'Italia e io la prendevo un po' in giro dicendo guarda tu sei veramente una persona con grandissima forza di volontà perché non arriverai mai a niente non voterai mai niente perché il tuo partito non riuscirà mai a ottenere posti di potere però tu ci credi e comunque vai avanti quella mia amica oggi siede alla Camera dei Deputati di Maria Grazia Fria che è riuscita ad essere eletta e allora le chiedo, quando lei ha partecipato alla Fondazione dei Fratelli d'Italia con Giorgio Meloni pensava che un giorno sareste riusciti a fare tutto questo o siete andati al di là delle vostre speranze? ci speravo, anche se forse l'unica che ci ha creduto sempre veramente è stata proprio Giorgio Meloni devo dire che non è stato semplice, è stata una lunga attraversata nel deserto per molti anni quando si faceva fatica persino ad eleggere dei consiglieri comunali anche nei grandi comuni dove magari non si riusciva a vincere il sindaco fare anche solo un consigliere comunale di opposizione è stato difficile per molti anni però noi eravamo convinti che la strada fosse giusta quella di creare un partito di destra-centro direi che da un lato raccogliesse l'eredità migliore di Alleanza Nazionale ma che poi fosse in grado di aprirla anche ad altri settori diciamo ad altre persone che venivano da esperienze politiche diverse in gran parte naturalmente nell'albero del centro-destra e che mantenesse una coerenza di fondo la coerenza di non fare accordi al ribasso con la sinistra di non partecipare a maggioranze innaturali e spurie come quelle che abbiamo conosciuto in tutti questi anni dopo direi la fine dell'ultimo governo Berlusconi questa è stata la scommessa vinta da Giorgia Meloni che ha dimostrato in questo anno e mezzo di essere meritata sul campo sta facendo uno straordinario lavoro in una situazione complessissima perché devo dire che abbiamo raggiunto il governo in una situazione internazionale veramente molto complessa che è peggiorata persino durante questi ultimi mesi quindi si fa fatica ovviamente però abbiamo una grande leader tenace, forte e credibile che devo dire è stata protagonista in tutti i vertici internazionali oggi presiede il G7 a nome dell'Italia e penso che stia facendo un ottimo lavoro e noi siamo con lei nel sostenerla nel continuare a rafforzare il nostro partito siamo molto fiduciosi che in queste elezioni europee questo percorso possa continuare perché dare più forza all'Italia l'8 e il 9 giugno passa da un voto a Fratelli d'Italia e mi permetta di aggiungere a Giorgia Meloni che ha scelto di candidarsi in prima persona certamente non per rinunciare a fare il Presidente del Consiglio ma per chiedere un voto di sostegno agli italiani sulla sua persona e sul governo non faccio il modesto, va bene Giorgia Meloni ha anche detta Giorgia ma bisogna che qualcuno scriva anche fidanza assolutamente sì più saranno meglio sarà devo dire Giorgia Meloni mi ha fatto l'onore di indicarmi come secondo capolista dietro di lei nella lista della circoscrizione Nord-Ovest questo naturalmente è da un lato un riconoscimento del lavoro che io ho svolto in questi 5 anni da capodelegazione, cioè capogruppo dei nostri parlamentari europei e forse anche un'indicazione per quello che dovremo fare nei prossimi 5 anni dove la nostra pattuglia sarà comunque molto rafforzata nei numeri, sarà protagonista saremo probabilmente se i cittadini ci daranno fiducia tra i gruppi più grandi a livello di partiti nazionali nel prossimo Parlamento europeo ci sono molte aspettative penso che ci siano tutte le condizioni per tornare a far pesare ancora di più l'Italia come meritiamo l'Italia è una grande nazione, non dobbiamo mai dimenticarlo dobbiamo prenderci quello che ci spetta Carlo Fidanza, un boco al lupo grazie, crepi lupo buon lavoro